Roma, 8 ottobre 2011, ore 14.10, qui in Piazza della Repubblica, qui a Roma, sta per partire o sta partendo la manifestazione contro il governo dei precari della funzione pubblica, contro i sopprusi, le tasse, i tagli alla scuola del governo Berlusconi, un gruppo di animatori calabresi ha dato il via alla rappresentazione con questi giganti, c'è tantissima gente, a Roma, a Roma, a Roma, a Roma, a Roma, a Roma. Arriva anche Rino Gaetano, il suo cielo è sempre più blu, che sento il sottofondo. Sottotitoli